Cristiano Del Grosso, hai esordito da giocatore del Pescara, sui social hai detto finalmente rappresentare la mia terra con questa maglia. Sì esatto, finalmente, perché da diversi anni che ci seguiamo a vicenda e quest'anno non sembrava assolutamente, neanche ci avrei quasi sperato, però invece poi è arrivata nel momento in cui non ci pensi, ti arriva una chiamata che per me è stato un momento di gioia infinita. Meglio tardi che mai, com'è nata? È nata che io ero con il mio figlio e mia nipote in un torneo di pattinaggio, perché la mia nipotina è campionessa di pattinaggio, e ero al lago di Scanno e alle 15 pomeriggi mi arrivano tre chiamate del presidente, tra cui non avevo risposto perché avevo il silenzioso e quindi poi l'ho richiamato e mi ha detto guarda in serata vieni a Montesilvano, lì a Vestina, che dobbiamo parlare e io subito sono andato. Ti abbiamo visto già abbastanza attivo nella prima sgambata che conta quello che conta, però ti abbiamo visto già attivo e pimpante. Beh, cerco di allenarmi e fare del mio meglio. Devo dire che mi sto trovando bene, i carichi di lavoro li sto sopportando bene. Io ripeto, l'importante è avere la voglia, la testa giusta e l'impegno. Poi è chiaro che tutto viene, adesso le prime settimane sono un po', li pago un po', ma come tutto il gruppo, però queste partite ci servono proprio per mettere un po' di benzina. Se dovessimo considerare le scelte della società, Crescenzi era già andato via, c'è sostanzialmente l'Isalde nel tuo ruolo, Cegliento che giocava a destra comunque è andato via, insomma sembra che si punti molto su di te. Io lo spero, cerco di fare del mio meglio, ripeto, mi impegnerò sempre. So che questo gruppo ha bisogno dei giocatori di esperienza, io mi metto a disposizione per fare del bene a questi ragazzi e a questo grande gruppo. Il mister è un uomo molto pragmatico, uno che si basa sui valori reali, sui valori soprattutto umani e questo è una buona base per iniziare ad avere un'importanza di questi valori e trasmetterli poi in campo. Quindi io cerco di solo che fare del bene in campo e fuori. La concorrenza è motivo di motivazione perché a 35 anni so che se mi mancano le motivazioni avrei comunque smesso, invece sono qui con la voglia di fare, di dare, soprattutto di dare, più che ricevere. Quindi io sono a disposizione, il campo poi dirà la sua e sicuramente voglio lottarmela per una maglia titolare.